...le ferrature, macchina che completa l'allinamento, perde un po' l'ala in seconda fila, Patrese N.P. C'è lotta per il comando, sbaglia Perfect Runner, vanno a lottare Iari, Penelope e Olivia che hanno scavalcato Nitro West, poi è Penelope Rock che tiene di fuori Olivia Rivarco, mentre è finito a tabellone numero 6, lancio in 14 spaccato per Penelope Rock e Filippo Rocca. Si è accodato Olivia Rivarco davanti a Iari che ha scavalcato Nitro West, di fuori viene subito Paola FKS, vedremo anche le scelte dei guidatori perché Paola va a imporre un quarto iniziale sostenuto, 29.8 per far riallungare l'andatura, ed è l'allieva di Filippo Monti a scavalcare quella di Filippo Rocca. Paola in vantaggio, ha spostato di fuori Nitro West ma lo anticipa Penelope Rock che vuol tornare in avanti, corsa alla francese. Nitro cerca di ritrarsi e così rimane scoperto adesso di fuori Perfect Flying che era ben risalito dalla seconda fila. Intanto si è passati davanti alla tribuna in 45, un pelino scarsi e si va agli 800 con un'altra frazione in 39. Andatura che adesso cala, Penelope Rock davanti a Paola FKS, Nitro West e Olivia Rivarco in corda seguita da Iari. Di fuori c'è il numero 8 di Perfect Flying che lancia l'attacco poco prima del chilometro, che arriva adesso attorno all'1,16 e una virgola. Si muove dal fondo anche Olivia Rivarco che lascia la corda e cerca di andare nella scia di quelli che attaccano. Intanto allunga Penelope Rock all'ultima curva, frazione di fronte in 15 scarsi. Guadagna vantaggio ma si apre di galoppo e va ad intralciare proprio Paola FKS che finiva di fuori. Riguadagna per Varchi, Nitro è come se avessero buttato un petardo all'ultima curva, hanno sbagliato tutti. Nitro West si trova in vantaggio, ritorna Paola FKS, in mezzo c'è però anche il numero 11 di Pickering, arriva 3. Paola FKS dopo il brivido torna a vincere davanti a Pickering e a Nitro off West. Quarto un po' più discosto Iari ma l'ultima curva è veramente successo un po' di tutto. 3 cavalli squalificati in 100 metri, il 3 di Penelope Rock, l'8 di Perfect Flying. Adesso andiamo a vedere quello che deciderà comunque la giuria. Paola FKS che sul palo mette il collo davanti a Pickering, all'interno c'è Nitro off West terzo coperto, tempo di chi vince attorno al 2-1, forse un pelino scarsi, a tabellone anche Olivia Rivarco che avanzava all'ultima curva.